La mia commozione La mia commozione non è la commozione di chi ricorda il passato, ma alla mia età siamo a guardare al futuro. Ed io ricordo solo di avere scritto proprio a proposito del libro bellissimo, non mi sono mai così divertito, che Maurizio Valenzi è il sindaco di Napoli, che ha dimostrato al mondo che i napoletani non sono disordinati per natura. Questa è un'apertura sul futuro. Cioè noi non siamo incapaci di essere civili, dobbiamo avere certe condizioni oggettive che costituiscano per noi una sfida. E io credo che il grande insegnamento di Maurizio, oltre alla grande e straordinaria simpatia umana e forza politica della persona, sia quella di ricordare sempre ognuno di noi che si può essere liberi e giusti purché lo si voglia ciascuno a cominciare da se stesso. Grazie.